o vai oggi cacciucco andiamo a preparare il pane a brostolito e in queste scodelle ragazzi per aspettavo con la mano si va a schiacciare il pane nella ciotola mi ci struscia anche un po d'aglio metto mi ci strusci l'aglio sai bella agli osso per venire a brostolisci meno bene poi dito vedi va a toccare questo di questo di è di classe e si va a mettere il brodo a impregnare il nostro pane a brostolito arrostito che spettavo questo sì che è il vero cacciucco ora la cliente la lascio un po a desiderare perché vedi questo ragazzino le dito nel naso l'ho beccato e guardava si scarcola poi guarda in aria fanno fanno gnorri e borda se lo struscia sul petto sulla maglia ma ha visto nessuno almeno ce l'ho qui e si va a senti la cipollina fresca vada là che spettavo la vita ragazzi o vai cacciucchino all'aria aperta all'aria buona all'aria buona a respirare fuori c'è il sole si prende un po d'aria un po di colorito buona un po di piccantino i pizzicanti ci sta bene però è secondo me un filo d'olio anche sopra crudo io ce l'avrei messo comunque e si va a preparare degli altri piatti che me la fai anche una paranza per me la metti una paranza a friggere da 6 euro 7 facciamo abbondante mai ma le scodelle tra un cliente quell'altro una risciacquata che laveranno io dio di no se tu passi con un centro sui balconi con gli schizzi ti ci fai tu ci riempi altri sette ciotole o sono anche schizzi guarda la bomba e occhi a quello che i ragazzoli che si scappola della perché mi grab a fondo ne andavo peccato per gli schizzi perché sui balconi davvero c'è più c'è più roba comunque una paranza si è detto una frittura di mare mista e un cacciucco e per finire un bel ponce alla livornese per sfondare sai su il finale che zona siamo di livorno lì versi il porto livorno mi manderanno gli accidenti e di e chiudiamo con questa perla mai sì mi vede nessuno sì 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 beccato un pieno c'era la telecamera mi petto se l'è strusciata ma dai schifo tu sia un po sudicio però